E fatto questo, non c'è più sforzo, nel senso che è una cosa anche bellissima, diciamo, nella percezione. Quando io vedo la realtà, mi apro a vedere la realtà così com'è, non c'è più necessità di tutta quella fatica che facevo prima, no? Mi posso rilassare perché sento che la realtà intorno a me è una realtà fondamentalmente di amore, c'è una verità, c'è un senso alle cose, no? Anche se adesso con la mia piccola mente non lo vedo, ma sento che sono parte di una rete universale di relazioni che è sempre lì, cioè non è che all'inizio del mio cammino spirituale succedevano esperienze spirituali appunto e succedevano da sé, no? Quando non me l'aspettavo o così, out of the blue, come si dice in inglese, no? Mentre invece più si pratica e più si va avanti anche nella propria vita, si dà energia a questo, più le cose avvengono quando vuoi tu. Cioè mi metto lì e adesso voglio contare questa energia, voglio sentire questo luogo com'è, eccetera, e lo faccio e succede. Ma proprio perché ho dedicato tanti anni a questo, no? E per cui sentirsi parte di un tutto, di una rete di relazioni, non soltanto esseri umani, ma anche gli animali, le piante, i minerali, gli esseri incorporei, i maestri, gli antenati, e voglia, ci sono tantissime realtà, tantissime dimensioni, fa sentire rilassati, no? Ci fa sentire al nostro posto, ci fa sentire che c'è un senso alle cose e quindi anche meno bisogno di doversi proteggere, no? Abbiamo paura di quello che non conosciamo, ci possono spaventare, eccetera, mentre invece ci facciano sentire smarriti. Mentre io invece se sento che sono in connessione, sono in relazione, ok, può venire anche il diavolo davanti alla mia faccia. Cosa mi interessa? Vediamo che cosa ha da dire, no? Quindi si rilassa e si sente meno necessità di proteggersi, no? Grazie. 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 Grazie.